oh salve a tutti ragazzi non vi avevo non vi avevo visti oggi voglio parlare di 10 cose che non sapete di isabel si questo anime mi ha davvero fatto commuovere anche questa e qui dove siamo prima oh questa magia non l'ho mai vista comunque è singla ho fatto sto dicendo ah già salve tutti benvenuti questo video oggi iniziamo alla top 10 1 no le disabegliata questa attizia è atena e cavaliere d'osotia con potere dicono atena dai malvaci cosa intendo che questa terra è la più forte di tutti ma lei porta a formarsi anche un cavallero zico ma lei non è un cavallero su dire che gli infatti non so con effetti forse lei è una altena porta a formarsi anche lei lo so dico ma non è ovviamente è una come lo zico no no b non no 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 e a top 10 1 2 e iniziamo gli fatti ragazzi lei disabegliata è una bambina è nata è nata quello che ho fatto ma perché è morta e lei e lei e sopra l'issuta cosa posso dire altro che questa attizia è stata portata da Pegasus, la cosa c'è tra Doraemon e quindi si amano. Già, ora andiamo a prendere, ci vediamo un prossimo video che ve lo farò meglio, bella, e se volete la disabit andate a vedere la singla, quindi non farò l'altro dell'intro e non farò meglio, bella, bella, bella.